Aurora Ramazzotti, oggi 22 dicembre, proprio come Maria De Filippi, compie gli anni La figlia di Michele E. 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 Ros Ramazzotti ha ricevuto un bellissimo regalo.Oggi, Aurora Ramazzotti compie gli anni, e sua mamma Michele Unziker per questo giorno speciale ha deciso di farle una dedica davvero commovente Il messaggio di Michele Unziker per Aurora.Per questo giorno così speciale, Michele Unziker ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dedicata a sua figlia Aurora Ramazzotti, nata dal precedente matrimonio con il cantante Erros Ramazzotti Pochi minuti dopo alla mezzanotte, la conduttrice della scorsa edizione del Festival di Sanremo ha voluto dedicare delle parole alla sua piccola Aurora che oggi compie 22 anni ripercorrendo i giorni pretendenti alla nascita della bambina Per il suo compleanno le ha dedicato degli auguri, che sono stati apprezzati dal popolo social Non volevi nascere, il termine era il 28 novembre e da lì in poi ogni giorno qualcuno mi diceva cosa fare per stimolarti a conoscere il mondo, a uscire dal calduccio, e a prenderti il tuo primo bacio Ha esordito Michele Unziker nel lungo post 2.Facevole scale tutto il giorno, e sono persino andata a fare una gita in altra quota, niente. Finalmente il 5 dicembre del 1996 alle 12 14. Ti hanno messa sul mio petto, e mi ricordo ancora il primo pensiero? Ma quanto è bella, ha le labbra a forma di cuore il mio angelo 15. Chiuse virgolette.La conduttrice ha poi aggiunto due punti, punto da quell'istante in cui hai aperto gli occhietti a fatica, e mi hai guardata, con un tonfo di gioia al cuore, mi è cambiata la vita 15. Ha proseguito Michele che all'epoca aveva appena 19 anni due punti, punto tutto da quel momento in poi aveva un senso, sei nata tu 15. Ti amo. Auguri amore mio, punto l a reazione di Aurora Ramazzotti, punto il commovente messaggio che accompagna la foto in cui appare Aurora e Michele è stato molto apprezzato dai followers 15. Non è mancata la risposta della sua primogenita che a sua volta ha dedicato parole dolci alla mamma 15. Mi viene da piangere. Ti amo più di qualsiasi altra cosa al mondo. Grazie mamma senza di te sarei niente 15. Non ci rimane. Che augurarle buon compleanno Aurora? B.